Salve a tutti e ben ritrovati, una vera e propria battuta d'arresto è in arrivo per l'inverno nei prossimi giorni, un inverno che sta già arrancando da diverse settimane ma che nei prossimi giorni si ritroverà ad affrontare un richiamo mite proveniente da un temporario rialzo dei geopotenziali che interesseranno l'Italia meridionale e favoriranno l'arrivo direttamente dall'Africa di aria molto calda che farà schizzare le temperature al di sopra delle medie anche di 7-10 gradi, queste sono le anomalie previste nei prossimi giorni a 1.500 metri di quota, per la Puglia questo si tradurrà nel raggiungere anche la soglia dei 20 gradi centigradi ma poi per l'inverno ci sono sorprese in arrivo, cominciamo con la giornata di oggi martedì 16 gennaio sulla Puglia, avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con alternanza di nubi e schiarite, possibilità di piovaschi nel corso delle ore pomeridiane e serali sulla Puglia centro-settentrionale, escluso invece il Salento, avremo già un primo rialzo delle temperature che nella giornata di oggi toccheranno i 15-17 gradi nelle ore centrali della giornata con ventilazione e rinforza dei quadranti sudorientali, ma è da domani che raggiungeremo la fase più umite, mercoledì cielo ancora irregolarmente nuvoloso con la possibilità più isolata rispetto ad oggi di qualche piovasco nel corso delle ore pomeridiane sulle zone interne di Foggiano e Varese con temperatura in ulteriore lieve rialzo, punte fino a 18-19 gradi, sembrerà quindi quasi primavera sul territorio pugliese ma attenzione al vento che risulterà in rinforzo a partire dalle ore serali con raffiche che poi raggiungeranno il loro picco nella giornata di giovedì 18 gennaio quando la Puglia supererà localmente le punte di 50-60 chilometri orari ma le temperature continueranno ad aumentare perché avremo il clou dell'arrivo del richiamo mite con valori fino a 20-21 gradi centigradi a colpire non sono soltanto le temperature massime ma anche le minime che sono tipiche del mese di aprile con valori che andranno oltre 10 gradi con punte fino a 14 gradi in piena notte. E poi chiudiamo con la giornata di venerdì 19 gennaio che sarà una giornata a spartiacque tra questo forte richiamo mite ed un inverno che invece prova una rivincita seppur temporanea nel fine settimana, infatti avremo un primo calo delle temperature con valori intorno ai 17-19 gradi nei valori massimi, diminuiranno di un paio di gradi anche le minime, ventilazione che poi dalle ore serali tenderà a disporsi dai quadranti settentrionali e questo sarà il preludio di aria più fredda che arriverà nel fine settimana, infatti il prossimo weekend, questa è una piccola anticipazione, mostrerà l'arrivo dell'inverno anche sulla nostra regione con temperature che torneranno a scendere di diversi gradi. Per tutti gli aggiornamenti come sempre vi aspetto sabato, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.